Presso la Commissione Bilancio della Camera si stanno concludendo le audizioni preliminari all'esame del Decreto Legge 73, il cosiddetto sostegni bis, che, nelle intenzioni del Governo e del Ministro Bianchi, dovrebbe rivoluzionare le modalità di reclutamento del personale docente. I problemi però non mancano perché, almeno per ora, sulle questioni in sospeso non sembra esserci un accordo fra le diverse forze politiche. Uno dei nodi principali riguarda la procedura per coprire le cattedre scoperte a settembre. Il decreto prevede di utilizzare le GPS assegnando un incarico a tutti i docenti di prima fascia con almeno tre anni di servizio. Gli insegnanti assunti con questa modalità svolgerebbero nel corso del 2021-2022 un anno di prova e formazione, al termine del quale dovrebbero sostenere una prova disciplinare. Superato anche questo ostacolo, verrebbero immessi in ruolo a partire dal settembre 2022. Sulle eventuali modifiche al decreto manca l'accordo politico perché il Movimento 5 Stelle continua a sostenere che un ulteriore allargamento della platea dei destinatari delle assunzioni non sarebbe altro che una sanatoria priva di un qualsivoglia meccanismo di selezione. Maddalena Gissi, segretaria generale di CISL Scuola, tra i vari correttivi LDL Sostegno BIS sottolinea la necessità di superare l'obbligo del requisito dei 36 mesi di servizio per le assunzioni da GPS di prima fascia. Si tratta infatti di docenti già abilitati o specializzati e dunque non permettere lo scorrimento dell'intera graduatoria delle GPS comporterà come effetto inevitabile quello di avere ancora a settembre nuove cattedre scoperte impedendo il raggiungimento dell'obiettivo di garantire agli alunni una continuità didattica e un organico quanto il più possibile stabile. Proposte emendative al LDL Sostegno BIS arrivano anche da Mario Pittoni responsabile scuola della Lega che si dice essere un grande insoddisfatto del provvedimento e ci ricorda che il prossimo anno scolastico continueremo ad avere a che fare con cattedre vacanti e con classi pollaio, per cui le sue proposte emendative riguardano lo sblocco delle assegnazioni provvisorie e del vincolo di tre anni per i neotrasferiti, l'introduzione di un percorso di formazione e prova, l'assunzione in ruolo anche dalla seconda fascia delle GPS non solo dalla prima, la cancellazione del divieto di partecipazione al concorso ordinario se si viene bocciati in prima battuta, la riapertura dei termini del concorso ordinario, l'assunzione in ruolo dalla prima fascia delle GPS senza il requisito appunto dei tre anni di servizio così come chiesto da Maddalena Gissi e infine i concorsi per insegnanti di religione cattolica. Nella giornata di oggi è in programma un incontro tecnico fra sindacati e ministero proprio sul tema del reclutamento e si attendono da un momento all'altro notizie sull'esito del confronto. Intanto però sindacati e movimenti dei precari stanno già affilando le armi. Gli uni hanno indetto una manifestazione nazionale per il 9 giugno per indurre la politica a riscrivere in larga misura il testo dell'articolo 59 del provvedimento, mentre i movimenti dei precari chiedono che le immissioni in ruolo riguardino tutti in modo da coprire almeno 200.000 cattedre. Obiettivo per la verità del tutto irrealistico in quanto sui posti di sostegno in deroga, così come sui posti di organico di fatto e di organico covid, risulta impossibile effettuare immissioni in ruolo. Il tema è di grande attualità, come potete immaginare, quindi noi continueremo a tenervi informati. Continuate a seguirci su questo canale, ma anche nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, i vostri documenti, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.